Siamo qui grazie a Michele Vassili che è sul pobrono per noi e anche abbiamo il dono di un sacerdote che pregherà con noi questa preghiera, guardate oggi in particolare voglio pregare per l'Italia perché domani sarà un giorno importante per la nostra nazione che veramente ha dei grandi problemi e non penso proprio che la politica li possa risolvere, però insomma così ci dicono, noi in particolare preghiamo veramente che la Madonna protegga e guidi l'Italia e Michele volevo chiedere a te anche di affidare a Mediugori proprio ai piedi della Gospa la nostra amata nazione e anche in attesa di domani del messaggio. È importante, è importante pregare anche per quella intenzione, molto importante. Io posso dire che sono stato alcuni, sai, che i messaggi che ogni giorno la Madonna dà anche durante l'apparizione quotidiana a cappella di Ivan non si pubblicano, sono solo per quelle persone che sono presenti, ma sono state tante volte che la Madonna ha chiesto pregare proprio per i politici, per coloro che il Signore ha dato il potere che un giorno loro saranno responsabilità di quello che loro hanno fatto. Per questo noi non possiamo solo dire a meno di interesse, dobbiamo pregare che il Signore sceglie le persone giuste, soprattutto che amiamo tutta Italia, allora è importante che lo guidano le persone giuste. Bene, allora con il Rosario per l'Italia, in collegamento proprio sul Pobrodo, il luogo esatto dove la Madonna è apparsa dal 24 giugno del 1981, con la grazia di un sacerdote che guiderà il rosario e dirà i misteri e ci darà poi la benedizione alla fine, ecco, con tutta questa grande grazia fiduciosi che Maria veramente salverà noi tutti perché il suo cuore immacolato trionferà, Iniziamo questa preghiera, Padre. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Oggi, sabato, misteri della gioia, meditiamo nel primo mistero l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Meditiamo da parte nostra sotto missione alla volontà di Dio. Come ha fatto la Madonna all'annuncio dell'angelo che per volontà di Dio le chiedeva una partecipazione responsabile alla salvezza dell'umanità, lei si è sottomessa alla volontà di Dio quando ha capito che si trattava proprio di un disegno divino. Ed è anche il modello per ciascuno di noi. Anche noi abbiamo un modello in Maria nella sottomissione al Signore, alla sua volontà, ai suoi comandi, ai suoi disegni. Di la prima parte, Michele, io dico la seconda. Gli amici che ci seguono pregano insieme a noi. Prima leggiamo sempre un messaggio aperto a caso. Il messaggio tra una decina e l'altra. Meditando queste parole facciamo, quello che abbiamo sentito, facciamo la decina. Il messaggio del 25 novembre 2015. Cari figli, oggi mi invito tutti. Pregate per le mie intenzioni. La pace in pericolo. Perciò, figlioli, pregate e siate portatori della pace e della speranza in questo modo inquieto nel quale Satana attacca e prova in tutti i modi. Figlioli, siate soldi nella preghiera e coraggiosi nella fede. Io sono con voi e intercedo davanti al mio Figlio Gesù per tutti voi. Grazie per aver risposto a mia chiamata. Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in Cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarti alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le antime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il nostro mistero. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Meditiamo. Anche noi siamo deputati come Maria a compiere la visita. Quante visite ha fatto la Madonna dopo quella visita alla cugina Elisabetta, adesso la fa a tutta l'umanità. E quando arriva la Madonna, lei porta sempre in sé il più grande tesoro che è Gesù. E anche noi, quando imitiamo la Madonna, in questo, cioè nel visitare, nell'annunciare il Vangelo, dobbiamo tentare anche noi, con la grazia del Spirito Santo, a portare Gesù ai nostri fratelli. Il messaggio 25 gennaio 1991. Cari figli, oggi, come mai prima, vi invito alla preghiera. Che la vostra preghiera sia preghiera per la pace. Satana è forte e desidera distruggere non solo la vita umana, ma anche la natura e il pianeta su cui vivete. Perciò, cari figli, pregate per poter essere protetti attraverso la preghiera con la benedizione della pace di Dio. Dio mi ha mandato tra voi per aiutarvi. Se volete, afferrate il rosario. Già solo il rosario può fare i miracoli nel mondo e nella vostra vita. Io vi benedico e rimango con voi finché Dio la vuole. Grazie perché non tradite la mia presenza qui. Grazie perché la vostra risposta serve al bene e alla pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più disegnose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita del bambino Gesù nella grotta di Betremme. Gesù nasce nella più squallida povertà e ci è di modello anche per la sequela nell'umiltà. La povertà non è fine a se stessa, è in funzione dell'umiltà, in quanto il povero, non avendo tutti i mezzi necessari di sussistenza, deve elemosinarli e deve subire rifiuti e umiliazioni e questo lo aiutano a essere umile. Perché anche noi accettiamo i limiti della condizione umana nella quale ci troviamo e tentiamo anche noi di vivere il mistero del Natale come l'ha vissuto la Madonna, cioè accogliendo Gesù nel nostro cuore, nella nostra vita. Il messaggio 25 marzo 2014 Cari figli, vi invito di nuovo, iniziate la lotta contro il peccato come nei primi giorni. Andate a confessarvi e decidetevi per la santità. Attraverso di voi l'amore di Dio scorrerà nel mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la benedizione di Dio vi riempirà. Io sono con voi e davanti al mio figlio intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in Cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preseggaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più vittosote della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione del bambino Gesù al Tempio. Meditiamo sull'offerta che Gesù ha fatto di sé al Padre nel Tempio per le mani di Maria, come l'offerta che anche noi dobbiamo fare al Padre insieme con Gesù nella Chiesa, anche noi per le mani di Maria. Questa offerta è l'offerta quotidiana della nostra vita. Il momento culminante è la Santa Messa, però anche quelli che non possono partecipare alla Santa Messa possono sempre offrire a se stessi con l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, alla Madonna, in collegamento con le infinite Eucaristie che si cedono tutti i giorni e tutte le ore su tutti gli altari del mondo. Il messaggio 25 ottobre 2018 Cari figli, voi avete la grande grazia di essere chiamati a una nuova vita attraverso i messaggi che io vi do. Figlioli, questo è il tempo di grazia. Il tempo è la chiamata alla conversione per voi e per le generazioni future. Perciò vi invito, figlioli, pregate di più e aprite il vostro cuore a mio figlio Gesù. Io sono con voi, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come a noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonati alla tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. O Gesù mio, perdona le nostre colpe per preservarci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più violiose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. La Madonna non si poteva dar pace in quei tre giorni in cui cercava Gesù che si era smarrito e finalmente l'ha trovato. Ma lei l'ha cercato. Quanti oggi smarriscono Gesù nella propria vita e non si danno pensiero di ritrovarlo? Preghiamo per tutti quelli che appunto hanno perso Gesù nella propria vita perché ritrovino la volontà, il desiderio, il coraggio di tornare a cercarlo. Lui che è la nostra salvezza. Anche domani è il 25. Crediamo che la Madonna darà un nuovo messaggio. Adesso è aperto a casa un messaggio il 25 settembre 2020, due anni fa. Cari figli, sono con voi così a lungo perché Dio è grande nel suo amore e nella mia presenza. Figlioli, vi invito a ritornare a Dio e alla preghiera. La misura del vostro vivere sia l'amore e non dimenticate figlioli che con la preghiera e il digiuno operano miracoli in voi e attorno a voi. Tutto ciò che fate sia per la gloria di Dio e allora il cielo riempirà il vostro cuore di gioia e vi sentirete che Dio vi ama e manda a me per salvare voi e la terra sulla quale vivete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non fanno nascere la tentazione ma liberaci dal mare. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal cuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le altre, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi e per il mondo interno. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo noi esuli figli di Ero. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di Ero. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgia a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Preghiamo ancora un Padre, una ben gloria, affinché lo Spirito Santo illumini la Chiesa, la protegga e la guidi. E porti anche in Paradiso le anime del purgatorio, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in sensazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Adesso, Padre, perché Michele ci ha accompagnato per la recita del Santo Rosario, visto che abbiamo lì la collina del Pobrodo, quindi con Maria che ci guarda, lei ci dà la benedizione di suo figlio a noi che abbiamo pregato insieme, all'Italia in particolare in questo momento e al mondo intero. Sì, rinnoviamo l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, come la Madonna spesso chiede, Cuore Divino di Gesù. Io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo figlio. Per i meriti e intercessione, Beata Vergine Maria, Regina della Pace, passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, vi benedica tutti i Dioni Potenti, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E col mio santo San Filippo vi raccomando, state allegri. Allora ringraziamo tantissimo Michele per questo dono immenso che ci hai fatto. Tienici tutti stretti nelle preghiere, piedi di Maria. Vabbè, io domani non voto, io non posso votare, ma non posso pregare. Siete voi che dovete scegliere le persone giuste, ma prima di votare fate qualche preghiera a Spirito Santo che vi illumini, che non è uguale a chi voti. Speriamo che il Signore ci manda le persone giuste che aiutano l'Italia e noi da Meggiugorje cerchiamo di aiutarvi sempre con la nostra preghiera e come la Madonna ha detto, sempre uniti in preghiera. Speriamo che la Madonna con il suo manto protegge tutta l'Italia, che allontana il male, questo è importante. Proprio in virtù di questo, caro Michele, io vorrei aggiungere proprio perché tu hai detto prima di votare preghiamo, assolutamente, e io aggiungo, visto che in Italia ci sono tante persone influencer che stanno dicendo la loro e stanno veramente muovendo le masse dal mio punto di vista nella direzione più sbagliata possibile, io dico veramente pregate prima di andare a votare e votate o non votate. Date quello che più vi dà pace nel cuore, quello significa che è la scelta giusta. Non andate dietro ai grandi comunicatori, perché dietro ai grandi comunicatori ci possono essere i grandi errori. Quindi veramente preghiamo e chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Grazie Michele. Un abbraccio. Noi invece continuiamo questa diretta con la coroncina della Divina Mifericordia perché Michele aveva detto che lui non la sa in italiano, quindi proseguiamo col padre e la diciamo in particolare per i moribondi in questo momento, in particolare per quelli che rischiano più di altri di non andare dalla parte giusta. Quindi padre, guidi lei la coroncina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzo e Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio. E nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la tua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, abbi misericordia di noi e del mondo intero, abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità della tua Dovitissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido e spero in te. O sangue ed acqua che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido e spero in te. O sangue ed acqua che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confidiamo e speriamo in te. Concedi, Signore Dio nostro, per la gloriosa intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, che viviamo nella grazia di Dio e portiamo il Signore ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amén. Allora, cari amici, vi ringrazio veramente di cuore di aver pregato con noi e chiediamo veramente a Dio che Lui torni a essere il re della nostra Italia e il re della nostra nazione. Solo così potremo veramente vivere bene. Il resto sono tutte bugie. Ciao a tutti. Vi voglio tanto bene. Alla prossima. Ciao. Ciao.